ragazzi come va bentornati 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 ora andiamo a giocare un po a monkey ground andiamo a vedere questo bel gioco un gioco tipo grudi delle borre più gladi che sono qua i personaggi anche ok quindi adesso bisogna andare a prendere la carne di quando devo prendere questi queste cose non ho capito perché questi qua poi bisogna fargli le bistecche dopo loro scappano c'è mi piscecate povere bestia dopo li fai così vieni qua ecco vedi mi sta bene che sti ventini faccio male povere bestia non bisogna far così guarda anche questo devi fai così lui scappa chiaro vedi non fare neanche ti attacca è una bestiazza povero guarda diventa bistecca vabbè ma dopo vedrete cosa servono le bistecche ragazzi perché le bistecche servono papà papà a per cui bisogna fare una roba una cosa del genere quando tu eccolo vedi compare il simpatico bisogna andare verso le frecce e fare così rimanercare che vengono fuori bellissime da che saltano fuori questi coccodrilli e un pochi amali che vengono in qua magari sono simpatici vengono adesso arriva 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 io lo salto vado qua e grazie vuole prendere anche questo è un po so yes ce l'ho fatta senza fare nulla adesso devo andare di là quindi si è butto queste non provare a saltare eccolo un peso credo di averla fatta tutta la legna no ho capito dove sono caduto ma sono caduto che parte ora c'è un punto di domanda quindi per cui vuol dire che qui su a parte voglio cambiare la mia arma e farmi ecco qua con questo di snoop dog dai andiamo no tata io ora vado qua e dico ciao zio guarda che figata che ha fatto c'è guarda ok qui c'è una chiave da prendere la cave deve essere qua sotto infatti qua sotto sarà la cave ecco il ragazzo ciao bello col casco top oh ma aperto la cave andiamo e can you get it before anyone else see it then i will get you a house monkey round ticket find the picture secondo me qua bisogna andare oh bene e questo what is this stai attento sta roba che girano suppongo che prendere non sia buono ma e questi andatevene via un attimo oh va 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 ragazzi qua che io c'ho l'alpha sword ancora ma viene viene qua ecco qua ecco qua ecco qua e servirebbe eccoci e qua siamo ora lo attacchiamo così dopo spero che quindi ora bisogna saltare da una parte all'altra ma cos'è sta roba è molto piccola questa cosa qua scusate adesso dove vado io però da qua qua c'è questo qua cosa che devo fare checkpoint figo sto qua che fa sta storia poi anche bellissime queste storie di tutte queste pipeline queste robe molto mi gusta questo questo si vede che c'è la mano e la noca branca attivare questo molto interessante molto the fed mountain day non si è capito qua chi è il zio che qua ma vieni un po più vicino che adesso ti catafalco ho visto questo che roba ragazzi a tutte stanno qua vediamo se ci arrivo a tutte proprio alfa sword tu che sei con me vieni qua adesso io tutti vi becco beh cioè tutti sono troppi nemici così perché tutti questi nemici ancora e la miseria ah perché dovrei tipo distruggere queste dicono no 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 questi spawnano in così oh ragazzi qua avete un attimino esagerato siete troppe questo che devo fare su queste cose qua non ho capito io sono impossibile da distruggere questa cosa distruggere ovviamente devo distruggere queste cose perché spavano queste scimmie che sono fastidioso ma questo è proprio ma cosa devo distruggere questo doctor mister ape ma così grande si diventa questo qua cattivona ma io con la soppata della della del fatto hai visto adesso magari lì ho qualcun altro sparafrascio anche questo vieni qua ah sei un diavolo madonna se ci avessi io sta boh rape ah e quindi adesso devo tornare indietro cosa devo fare eccoci ah quindi mi dicono vai là a parlare con quel tipo andiamo ok 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 Grazie a tutti. Ah, c'era anche una moonshine qua che ho preso, probabilmente, oppure... Sono perso, non trovo più la strada. No, è chiuso. Cosa c'è qua? Cioè, qui c'è chiuso. E scusa. Dov'è il posto per passare? Non mi ricordo più. Qua bisogna andare. E va. Scusa. Porca miseria. E cos'è? Devo fare la strada della rovescia? No, 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 no. Ecco. Non riesco a capire come si battono all'indietro. Adesso trovarò la strada, dai. no ovviamente più tempo ci metti a salire no più il programma dopo ti dice di qua di qua ah ma dai ma anch'io che sono proprio oh yeah ah quindi devo tornare indietro tipo ah quanto mi caso con questa roba